Salve a tutti, facciamo un po' il punto sui concorsi. Sappiamo che il concorso straordinario finalizzato all'immissione a ruolo e il concorso sulle materie STEM si sono regolarmente svolti e conclusi con l'immissione a ruolo dei primi vincitori. Sappiamo anche che con le indicazioni del Ministero entro il dicembre prossimo, quindi entro il 2021, dovrebbe finalmente partire il concorso ordinario con la prova scritta. Infatti la procedura del concorso è stata fortemente modificata prima dal decreto Brunetta e poi dal decreto sostegni bis con l'eliminazione della prova preselettiva, la previsione di un'unica prova scritta con quesite risposta multipla, la prova orale e la valutazione dei titoli. Quindi entro dicembre dovrebbe partire la prova scritta del concorso ordinario. Si sono tuttavia perse le tracce della procedura straordinaria abilitante. Se ne parla da mesi ma non vi è alcuna indicazione da parte del Ministero. Le uniche notizie certe che si hanno sul concorso straordinario abilitante è che è stata fortemente modificata anche in questo caso la procedura. Il decreto sostegni bis infatti incidendo sulle previsioni della norma che aveva previsto l'avvio di una procedura straordinaria finalizzata al conseguimento dell'abilitazione ha infatti eliminato la necessità del conseguimento da parte dei candidati dei 24 crediti formativi e ha eliminato anche la prova orale. Quindi il concorso straordinario si svolgerà, finalizzato all'abilitazione, si svolgerà esclusivamente tramite una prova scritta e purché il candidato consegua un contratto a tempo indeterminato o un incarico annuale o fino al termine le attività didattiche. Tuttavia fin quando il Ministero non darà indicazioni precise su quando partirà la procedura ancora si naviga nel buio. A presto e vi aspetto sul sito della tecnica della scuola per i nostri consueti aggiornamenti. Arrivederci.